pane carasau al forno con lo stracchino mamma quanto è buono stendi le fette di pane carasau su una teglia in cui hai versato un giro d'olio io ho trovato del pane carasau integrale ed è davvero buonissimo bagnalo leggermente con del brodo vegetale copri con dei fiocchetti di stracchino io ho abbondato altre fette di pane carasau ancora un po di brodo e un giro d'olio in forno a 200 gradi per 15 minuti e voilà e voilà grazie a tutti grazie a tutti